popolo di rzc search lab benvenuti in un nuovo episodio del labcast rinnovato un saluto da merico e pentone bicchieri siamo tornati per parlare di un argomento molto molto interessante oggi perché parliamo degli rcq è nata questa tematica dal fatto che sono stato ad un ottimo rcq di 95 persone che davvero tantissimo colino ad angelo street ma ne parliamo dopo allora anche un po coadiuvato dal dalla community che ne sta parlando in questi giorni true hero è un momento di qualifiche sì più che altro si sta parlando anche di che tipo di eventi sono frustranti sono belli sono brutti e insomma facciamo anche un assunto sì anche perché rispondiamo un sacco delle domande che ci sono sempre arrivate nel tempo non sai quelle domande che rimangono degli sleeper che magari facciamo finta di non considerare però comunque noi abbiamo un nostro elencone di cose ancora da smaltire perché cresce la community e più davvero sono tante noi rimaniamo in due le nostre giornate continuano a essere 24 ore davvero difficile io credo che pagherei un sacco di soldi ma penso che un sacco di gente lo farebbe se si potesse comprare il tempo davvero sì però in generale la cosa bella è che oggi spieghiamo un po come funziona la scalata al pro tour come si arriva al pro tour a world championship cos'è un rcq come ci si scrive cosa si fa il video diviso in due parti la prima parte quella un po più informativa per chi non sa come funziona per chi vorrebbe iniziare certo già iniziato ma non ha ben chiaro come si arriva fino in cima invece la seconda parte un po più angolo del flamos no non è vero no non oggi non oggi non ho presto ma presto no però è sulle un po più opinionista opinionistica su che tipo di evento è un rcq di come riviviamo noi di come sentiamo che vengono vissuti dalla comunità sì è un evento comunque che viene approcciato in maniera più o meno simile da chi gioca ecco non è un evento devastante alla fine è solo un torneo più grande preso un po più serio però il fatto che sia qualcosa di così importante in gioco diciamo che rende l'atmosfera un po più elettrizzante la gente si fa presto no a far a fare escalation no cosa è successo cosa è successo comunque ragazzi facciamo un velocissimo angolo marchetta così ci liberiamo subito gli sponsor per passare al super topic di oggi quindi diventiamo blu per mezzo cero in friends con il codice url 5 potete avere accesso a tutto il catalogo con il 5 per cento di sconto perfetto quindi mezzo cero in friends punto com tra l'altro pop perché è sempre più vicino token in power servono particolarmente tanto ma anche in modern ma anche in standard anche in modern richiediamo il cat lifelink richiediamo il cat lifelink e chiediamo il token everywhere per standard per standard dai davvero sì è importante anche perché non ne fai mai solo uno non ne fai davvero tanti vedrete presto nel mondo emirico che ne faremo davvero tanti ma mezzo cielo regaliamo queste dal progetto quindi ricordatevi di fare il token everywhere perché servivano tanto è molto importante poi c'è il nostro secondo sponsor manatraders quindi codice url 10 che è il doppio il doppio di 5 anche oggi il re della matematica e il re del servizio di noleggio per le carte su mtgo quindi con il codice url 10 ma in realtà basta cliccare il linkino sotto e vi mando direttamente alla pagina avrete il 10 per cento di sconto per non uno non due ma per ben tre mesi sul vostro abbonamento manatraders esatto e oltre a questo fate arricchire il canale in maniera esponenziale perché 0 62 tics in realtà in realtà oggi hanno guadagnati 1 e 92 perché uno si vede che ha fatto il il abbonamento cicciotto quello da 80 90 un dollaro e 92 pure tassato grazie mille ma se volete darci soldi in modo un po' più diretto si diventa non mi ricordo anche il colore no non c'è un colore per il patrion perché bianco nero adesso una volta era arancione adesso è bianco nero è tipo è un po' un azzurrino in realtà ci ho messo un botto a scegliere il colore non lo so ma non sono problemi miei sono problemi del mirico del futuro che monta è passato è passato perché è già montato e il patrion cos'è e non so patrion ragazzi i soliti 5 livelli beh ti rubo la scena vai vai si si tranquillo il re delle marchette presto il re delle marchette perché sono il re delle marchette io il re di qualcosa sei tu di solito esatto king of 5 livelli più 1 e ormai riempiti tutti quanti come uniti sempre più attiva ormai stiamo toccando i 70 abbonati numero importante che non avrei mai pensato di riempire così presto in fretta coaching attenzione standardisti attenzione poveristi tanti vogliamo vogliamo tanto modernisti io sto continuando ad essere assaltato da giocatori di boros gatti non ce lo faccio quasi più e sta finendo la stagione comunque dai adesso ormai manca davvero poco manca davvero poco però c'è tanta voglia di gatti tanta voglia di mardu gatti tra l'altro sì sì vabbè oddio sì 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 uno dei miei cc ha switchato adesso mardu gatti molto bene o molto male dipende dipende beh per te è molto male se sei storm preferisci l'altra versione ma sì tanto vi batto comunque quando sono a un punto vita e devo flippare con quattro con quattro tiri cosa è successa l'altro giorno tra l'altro ma vabbè ne parleremo forse io ho detto al mio avversario se vuoi uccidermi fallo fallo adesso fallo e ti assicuro che non muoverò un dito poi ci provo no no non muoverò un dito cioè fai quello che devi fare se mi vuoi tirare un pugno sentiti libero mi ha detto no tranquillo però una bestemmia te la tiro ma torniamo nel topic immergiamoci nel topic di questo labcast quindi il solito spazio di condivisione oggi però iniziamo spiegandomi un po come funziona la volta verso il pro tour perché sai un sacco di giocatori anche di quelli che arrivano soprattutto i più freschi quelli che hanno appena iniziato a giocare non si chiedono ma come faccio a diventare tranquillo che ci vuole una vita a meno che non siate proprio un talento fuori testa anche perché comunque bisogna conoscere tutti i formati il limite o si terlizzi o tendenzialmente si capito di essere davvero un talento fuori fuori discussione oppure un grande hard work perché ci può arrivare anche così però com'è che succede insomma che come fai succedere questo piccolo miracolo allora diciamo che è tutto legato alle stagioni competitive che si alternano ce ne sono tre tra l'altro adesso hanno appena annunciato le prossime dell'anno prossimo standard mode standard grazie palmer grazie palmer vedremo se sei stato messo in pausa o se sei stato cancellato del tutto marcos water oggi proprio che in realtà per voi è qualche giorno fa detto che palmer non è morto ma bisogna vedere in che in che condizioni è in che parte del multiverso magico si trova perché davvero tanti dubbi ci sono tante persone che sono super on fire altre un po meno ne parleremo ne parleremo ragazzi ne parleremo oggi non è il momento di quello che poi tra l'altro manco i magic on magic on tutti in america se vi qualificate dovete prendere un aereo si dovete più di un aereo las vegas costa mettetevela via che bisogna bisogna davvero muoversi però cosa importante in questo tipo di tornei di solito costano sempre un po di più di quelli normali dai 25 in su dai sì se non sei boss che ne fa 20 più di 20 di solito più di 20 c'è chi lo fa anche a 20 però è un evento di solito molto frequentato soprattutto da gente che arriva fuori perché c'è gente soprattutto in gran città con la nostra alla fine quattorino la gente viene un po da tutta la provincia no quindi non vi dovete aspettare il solito meta da negozio no bisogna giocare bene bisogna giocare giusto sul generale quindi non metagaming tra amichetti perché non li vecchi puoi farlo ma non è una grande idea poi soprattutto c'è il cosiddetto rel che è il livello competitivo dei tornei che sta per rules enforcement level re dell'inglese sono ben tre in realtà di livelli che sono il local in realtà sarebbe fnm il competitive che è quello dei quello degli rcq e poi c'è il profession che però dal nome in realtà si in altri luoghi diciamo dal pro tour in su si applica professionista e cosa a cosa serve setta le aspettative del torneo in che senso se tu partecipi a un torneo con rel local le aspettative quali sono i giocatori sono lì per divertirsi divertirsi ci divertiamo quindi se ci sono delle infrazioni delle cose poco chiare dei mistrigger il compito del arbitro o del to che sarebbe il tournament organizer quindi intenzialmente il negoziante è quello di trovare una soluzione che accomodi il divertimento il fatto che si trova una soluzione anche casereccia che però renda contenti ma sì easy alla fine negli ambienti più ospitale ecco ci sono sempre le eccezioni negative però in generale l'fnm vai lì a provare le cose strane se li hai farti due risate il gioco è quasi marginale torneo rilassato infatti tutti easy dici ah ho sbagliato a far questo ma sì tranquillo ma ma negli rcq non è proprio così perché c'è appunto l'aspettativa che i giocatori sappiano le regole del gioco e questa è una curativa cioè devi saperla devi sapere cioè c'è proprio l'aspettativa che tu le sappia se non le sai è un po' un piccolo problema per te più che altro perché sarà un problema e c'è anche l'aspettativa che se c'è un problema non si risolva non si risolve a casetta nostra ma si risolve con l'ottimo arbitro se c'è perché negli rcq la stessa tc ma in realtà anche legacy prima rendeva i tornei possibili anche senza la presenza di un giaggio cosa che personalmente trovo agghiacciante sì è una cosa recente comunque prima non era così infatti agghiacciante il fatto che un torneo possa essere gestito da persone che non sono arbitri non tanto perché la colpa è loro ma il problema è proprio del sistema che permette una roba del genere no è una professione alla fine ci sono degli esami da superare ci sono dei ruling da conoscere delle azioni da intraprendere non è che ci si può aspettare che il tio magari il negoziante che non so magari è un giocatore di one piece che ha detto vabbè facciamo pure il torneo di modem perché c'è un giro così e cosa ne sa anche perché adesso seguirò il vecchio ordinamento paro eh sto sparando a caso il vecchio ordinamento facciamo finta anche che tu sei un negoziante e sei un arbitro di livello 1 livello 1 però sa le regole ma non sa le policy le policy sono il come si gestisce una situazione tipo stanno giocando io contro Mirko Mirko pesca 8 carte in inizio game invece di 7 che si fa quella soluzione lì è una policy non è un ruling sì non c'è una regola banalmente il non so faccio surveillo 1 di darsi e guardo due carte per sbaglio poi dovremmo capire se è per sbaglio però tendenzialmente anche lì anche quella roba lì è una policy capire se è per sbaglio se non è per sbaglio la soluzione queste cose qua non è prevista nel nel vecchio ordinamento per tra le conoscenze degli arbitri livello 1 quindi gli arbitri livello 1 non sanno gestire queste cose a meno che non sono arbitri che hanno già dell'esperienza sì un po' di esperienza quindi non sono sono il livello 1 a livello nominale stanno per passare ma in realtà sono arbitri un po' più grossi ma tanto li vedi ma sì anche perché mi dicevi che comunque per passare a livello servono delle esperienze par livello cioè tu devi lavorare come se fossi a quel livello in modo da raggiungersi e soprattutto devi avere sempre la raccomandazione di uno di un livello superiore quindi per diventare livello 2 devi essere raccomandato da un livello 3 e va bene ci sta come cosa è abbastanza sempre funzionato così molto americano sempre per raccomandazioni un po' una setta per raccomandazioni vere non raccomandazioni all'italiano questo qua è bravo sì esatto quello è il senso te lo dice Jacopo Strati cioè comunque uno non male magari quindi in generale ah e poi un'altra cosa molto importante comunque oltre a quello che è REL che non so se faccia parte del REL sì probabilmente il fatto che devi consegnare la deck list sì 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 tra le cose da fare nei tornei competitivi è il fatto che ci sia il controllo della lista perché ci potrebbero essere dei deck check assolutamente sì una piccola raccomandazione che io faccio sempre una pratica che uso fare sempre prima di tornare in molti importanti io personalmente imbusto nelle buste nuove cambiate sleeve oppure fate molta attenzione che non ci siano segni particolari perché qualche volta succede senza che te ne accorgi a volte c'è il grano di polvere che rimane che fa il nero a volte si piega sul bordo queste cose qua soprattutto se mescolate in maniera molto aggressiva potrebbe dare problemi fortunatamente in realtà anche se vai con le bustine rovinate si te le cambia al volo decenti ma anche se le tensi così comunque si può sopravvivere diciamo ad un deck assolutamente sì però ti stai diciamo mettendo un po' della parte del torto a caso ma anche perché sai cos'è di solito prima delle RCQ mi immagino uno comunque testa parecchio quindi magari le cambi all'ultimo tanto quelle prima le distrutte almeno a me così capita però sai alla fine costano 10 euro stiamo parlando di cifre assurde le carte costano molto di più quelle che contengono decisamente soprattutto se giochi modern eh esatto è anche standard adesso eh madonna mi lascia perdere lascia perdere aiuto bene cosa dire più che altro l'RCQ appunto è il torneo che se vinto ti qualifica per il regional championship infatti il regional championship qualifier l'RCQ che ti qualifica al regional championship esatto che è del formato competitivo della season di appartenenza esatto tendenzialmente non è sempre così perché per esempio l'IL che è il torneo che ci sarà fra qualche settimana sì in realtà cade a livello di tempistica quando la stagione modern sì ma in realtà perché c'è stato lo switch tra i due provider prima perché prima c'era legacy che erano italiani adesso c'è tc che sono danesi gli ottimi danesi di tc che erano quelli che c'erano prima tra l'altro sì eh io non ricordo benissimo ma vabbè storie strane però vabbè prima quando era dritta a marzo non abbiamo fatto quello standard infatti a maggio a Napoli era standard sì sì a maggio mentre c'era la stagione pioneer mentre c'era pioneer esatto quindi tendenzialmente sei a cavallo tra le due stagioni però se tu ti qualifichi per modern il torneo di riferimento sarà modern sì sì chiaramente di solito rimane lo stesso formato ecco non è ancora cambiato credo no 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 per ora non sembrerebbe esatto poi una volta che tu arrivi al regional championship c'è un cut allora ci sono vari modi di arrivare a quello che è il pro tour quindi il pro tour è un gradino sopra il regional championship quindi è su base mondiale sì il pro tour diciamo che ci sono tanti modi di arrivare al pro tour c'è una differenziazione tra quelli cartacei e quelli online sì lasceremo le grazie allora per quelli di mtgo e quelli di arena ci sono le grafiche ci sono delle grafiche ufficiali sul sito della wizard sembrano fatte con powerpoint sì le lasciamo lì perché a spiegarlo è un disastro davvero mtgo ha dei tagli diversi sì ci sono è proprio un diagramma di flusso e i mox c'è tutto il giro è un disastro sono molto complessi e per per non metterci 40 minuti a fare il video vi lasciamo la grafiche sì capito anche perché soprattutto per chi ci ascolta e sono tanti tra l'altro sono aumentato un sacco che ascolta Spotify lo sai molto bene grandi raga continuate perché Spotify mi dimentico di controllare Spotify se io non fossi quello che fa il podcast io mi ascolterei su Spotify 100% il re di Spotify il re di Spotify per il cartaceo c'è una via sola che è quella dell'Arsi di solito c'è un cut top 16 top 24 dipende dalla grandezza dell'Arsi sì da quanta gente c'è perché è molto aleatorio per esempio a Napoli erano 800 erano tantissime a Napoli mentre invece a quello prima erano 400 mi sa che il cut a Napoli è stato pure 32 32 sì sì era 32 c'era tantissima gente e soprattutto tante persone che erano in cima forse erano pure già qualificate eh sì quindi si va a scalare esatto si scala di solito negli RCQ no perché funziona in modo stupido no negli RCQ non funziona così quindi una persona che è già qualificata può rigiocarlo e rivincere la qualifica tra l'altro una volta piccolo piccolo angolo storico una volta se tu volevi partecipare ad un PPTQ quando si chiamavano ancora PPTQ ma era la stessa cosa sì hanno cambiato tre nomi sì PPTQ VPNQ RCQ bellissimo per dire la stessa cosa come funzionava se tu volevi giocarlo ed eri qualificato ti cancellavano la qualifica cioè risettavano ok puoi giocarlo se vuoi andare però devi vincere pure questo l'avevo dimenticata questa cosa qua ma si mi è passata una vita però eh quanti anni fa è sta cosa è 2018 mamma mia c'era ancora Xalan c'era Teferi che era in standard me lo ricordo era 2018 perché c'era Xalan che c'era monoblue tempo che era particolarmente forte avevo fatto top 4 un PPTQ no io in quel periodo giocavo davvero davvero poco perché avevo appena iniziato a lavorare e poi mi sono trasferito all'estero quindi facevo gli showdown tantissimo standard giocavo tutti i sabati le domani mi facevo tutti per release tutti quanti lì ero diventato proprio fan del gioco io PPTQ avevo mollato un po' la cosa competitiva spinta mi andavo a fare eventi di card market eccetera era lo standard showdown io andavo c'erano tipo 30 persone era bellissimo promo gratis per tutti la busta utopico utopico oggi queste cose qua non esistono più eh no puoi vincere facendo Approach of the Second Sun che carta ragazzi invece adesso neanche in command neanche in command le stiamo a giocare c'è in Pioneer in Lotus Pill no è bella non si gioca neanche più lì vabbè sei tu il re di Lotus Pill quindi che dire un cut di persone che si qualificano al Pro Tour quindi tra i vari regional championship e credo che il vincitore del Pro Tour scorso sia sì ci sono i vari vincitori dei Pro Tour che sono qualificati la top 4 del Pro Tour prima comunque devi passare o dal Pro Tour o da un RC di fatto cartaceo sì in via cartacea qua stiamo parlando in via cartaceo online c'è il super diagramma è sotto l'abbiamo mostrato a schermo prima lo rimostrerò adesso giusto per si veramente molto complesso in ogni caso poi dopo c'è per i Worlds l'Olimpo che in realtà i World Championship in Magic sono sempre un po' un po' marcati allora è sempre strano perché i Pro Tour di solito sono molto guardati sì perché tendenzialmente c'è Modern quasi sempre c'è Modern non sempre però tendenzialmente il formato più guardato è Modern e invece i Worlds tendono ad essere molto spesso Standard sì Standard e Standard storicamente non è mai un formato che attira tantissimo c'è un sacco di gente che viene che non gioca da mille anni e dice ah cosa fanno i mazzi è un po' quell'utente di passaggio che ci sta a me ricorda molto ho sempre giocato sport di racchetta una cosa interessante a me piace fare un parallelismo col tennis i Pro Tour sono i grandi slam e i Worlds sono le Olimpiadi che sono importanti però li guardano ma bene che poi nel tennis abbiano messo il fatto che non diano punti ATP quindi se tu vinci la medaglia d'oro non vale niente cioè sì vale vale perché vinci la medaglia d'oro però non vale per la tua classifica ATP i Worlds hanno un grande valore sia a livello finanziario però pure a livello di qualifica perché infatti ai World Championships come si arriva c'è un elenco di cosa allora i top 4 dell'anno prima e ci sta e ci sta tutti i giocatori che nei Pro Tour dell'anno hanno fatto almeno 12-4 x4 al Pro Tour vuol dire che è giocato tutti i round intanto è giocato tutti i round e che si è andato anche immediatamente bene in quelli di draft sì esatto molto bene o 0-2 in tu 0-2-0-2 in tu 12-4 che però deve essere un drago un drago incostruito sì oppure devi gestirti bene le sconfitte sì oppure fai 3-0-3-0 in draft e poi fai schifo in svizio poi ci sono i primi due dei mox che sono i Magic Online Champions Showcase Events possiamo farlo un po' più lunga che è quello con questo è qualificato l'ottimo True Hero sì aveva vinto un mox ed era andato al mondiale dell'anno scorso sì 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 beh lui è un grinder di MTGO lui è un grande di MTGO un grande un grande grinder c'è il True Hero un grande piccolo noi dobbiamo conoscerci bene perché dicono che siamo molto simili nell'approccio voglio un angolo del flame loro due e io le guardo esatto tu in un angolino che filmi bene poi ci sono i top 2 players quindi i primi due dei tre Arena Championship Events che invece sono l'equivalente per Arena sì lo showcase di Arena non lo so mi sembra che hanno cambiato di nuovo nome però comunque l'evento di Arena vabbè quello lì l'evento di Arena lo scrivono grosso così quindi lo sapete sì quando apri Arena che poi non lo apro mai però beh il campione dell'RC che comunque ci sta ci sta del vivo che tu vada al Pro Tour sì ovviamente ci sono anche i vincitori di quelli che sono gli equivalenti del Regional Championship quindi tutti gli eventi tipo in Asia americani americani asiatici are ruia e poi ci sono i top 32 player nel ranking dei player perché tu comunque quando giochi il Pro Tour ricevi dei punti sì ci sono dei punti per il player of the year esatto i premi il poti esatto il poti e quindi in questa classifica delle persone che hanno più punti i top 32 che non sono già qualificati tramite altri metodi perché di solito combaciano sì esatto non sempre però tendenzialmente no sì però le persone che hanno fatto 12-4 hanno anche accumulato punti pro sì quello è vero però tendenzialmente dicono per fare il numero prendiamo anche i top 32 più forti del mondo che comunque non mi sembra una brutta idea che non mi sembra una brutta idea così mettiamo i più forti del mondo che se la giocano alla fine questo è un po' il senso un po' mistiando da cartaceo online tutti quanti insieme alla fine perché poi i world sono cartaceo infatti i grinder di MTGO tendenzialmente non vanno benissimo vanno benissimo quando giochi a cartaceo ci sono degli aspetti in più che devi comprare psicologici non devi far facce smorfie è un mind game è come giocare a poker infatti molti giocheranno a poker sì infatti è quello perché in magic si guadagna poco qui non ho un altro discorso ma sì ma la passione ma cos'è cosa sono i soldi davanti alla passione certo tante bollette si pagano con la passione bene che tipo di esperienza è l'RCQ questa è la cosa interessante perché intanto la prima cosa ragazzi è un'esperienza snervante allora tendenzialmente è molto frustrante come tipo di eventi in ogni caso tutto il giorno a parte la mattina presto io arrivo sempre nel cover anche perché il problema è che l'RCQ anche se siete in 12 e 5 turni cioè bisogna forzare i 5 turni l'un o nell'altro cose di regolamento molto lastre quindi raga 8 ore dovete giocare almeno 8 ore bisogna giocare se siete in 95 al dungeon street dovete fare 7 round quindi sono 10 ore minimo 9 ore perché siete stati molto bravi perché c'era Jacopo Strati che ci guardava con una mazza da baseball sono un turno abbiamo fatto più di 10 minuti ed erano due belcher che stavano facendo ma modern se vai ai turni è perché due contro si beccano oppure due belcher perché lì Flair of the Night il Pac-Nomegation è un disgustoso ma fortunatamente è successo una volta sola quindi si gioca tanto sono eventi frustranti perché perché sono tutti lì per la qualifica tendenzialmente ma soltanto uno vince diciamo che non tutti reggono comunque la pressione di questo tipo eh no più che altro perché è brutto c'è chi sbrocca io continuo a pensare che sarebbe meglio fare meno eventi ma si preme la top 4 come qualsiasi altro gioco di carta esistente nel mondo sì anche per una questione economica però ci guadagni di più così ovviamente ci guadagni di più così però a livello cioè per me è proprio brutto è più comodo è più comodo fare tipo Yu-Gi-Oh sì beh Yu-Gi-Oh top 4 una volta anche la top 8 figurati cioè proprio tutti dentro tu e l'europeo quasi ruberia però è brutto perché comunque un evento tirato con pressione con comunque un rel competitivo poi è una lunga giornata di base perché comunque i turni si susseguono spesso non c'è la pausa pranzo quindi dovete portarvi un po' un pranzo a sacco bevete tanto se sono 7 turni tendenzialmente la pausa no 5 turni già magari dopo il secondo turno quindi all'una magari ti dà ancora mezz'ora il vero consiglio è bere tanto e fare la pipì in mezzo ogni round quello sicuramente sì perché il tempo lo puoi chiedere puoi chiedere 2 minuti per andare in bagno è assolutamente legale l'arbitro vi darà poi 2 minuti no no che molte persone magari non lo sanno l'arbitro è lì per aiutarvi non è lì per bastonarvi quindi chiamatelo chiamatelo perché assolutamente solitamente è una persona che intanto si pone bene nel senso non è che è lì per punirti necessariamente poi se hai citato è giusto che tu l'hai punito la descrizione la definizione di arbitro me l'hanno data me l'hanno data Luca Chiassoni e Jacopo Strati che sono due pesi davvero massi e mi hanno detto che per loro l'arbitro è un maggiordomo è un maggiordomo al servizio del player che effettivamente è molto vero nel senso che l'arbitro fa customer care detta proprio a modi e compagnia americana fa customer care e basta cioè alla fine le regole l'arbitro le deve sapere quindi ok assolutamente sì ma è tutta la parte di lato la gestione il management di quello che chiamavi prima a Dungeon Street è una cosa che mi ha fatto molta impressione il fatto che c'è gente che ha fatto 0-3 e fa Jacopo grazie mille di aver arbitrato grazie mille della situabilità me ne vado la cosa bella è che uno che fa un torino del genere spende 25 euro magari viene pure da fuori ed è pure contento ti ringrazio di aver fatto 0-3 e di aver gestito il torneo quello è incredibile perché vuol dire che hai creato un ambiente sereno tranquillo vabbè lì è plauso plauso all'environment di base ma in realtà il discorso è che lo fa anche molto l'arbitro un buon arbitro tendenzialmente riesce a creare un ambiente buono infatti anche a me tendenzialmente mi sono andato a standard secondo me è una cosa tanto importante che il fatto che l'arbitro non bisogna sentirsi in colpa nel chiamare l'arbitro non è un torto che fai al tuo avversario non è una mancanza di rispetto in nessun modo è una tua possibilità che devi sfruttare al massimo perché le persone ci provano allora cioè io l'ecco l'ho chiamato quattro volte sì allora il momento giusto in cui chiamare l'arbitro nel senso che in questi torni qui la prerogativa è che ai giocatori è richiesto sapere le regole quindi se non le sai sono affari tuoi è un problema tuo poi ci sono delle secondo me delle linee di grigio però molto comprensibili le capisci quali sono le linee anche a anche così a cuore le capisci a istinto le capisci ma è il giocatore che non ha mai fatto un rccuglia o si spiega magari in un modo comunque l'arbitro si chiama lo stesso perché sì no per carità però si vede chi ha la prima esperienza esatto ma la prima esperienza semplicemente capisco che possa sembrare molto punitivo subire magari un warning per un qualcosa però assicuro che ogni volta che ho dato un warning a un giocatore il torno dopo non ha più fatto quello sì è proprio deutico nel senso un warning non significa che sto imbrogliando necessariamente anche perché non è che se citti non è un warning non serve a quello il warning sì ma stai tranquillo che non prendi solo un warning se stai citando nella caccherata ti mandano a calci via un'ultima chicca da aggiungere è occhio all'angle shooting allora cos'è l'angle shooting c'è un ottimo video di piegonti che vi linkerò che parla proprio esattamente dell'angle shooting è una tematica abbastanza particolare è una tematica molto molto specifica l'angle shooting sostanzialmente sfruttare le regole a proprio vantaggio per trarre un vantaggio contro un giocatore esempio classicissimo è Tarmogoyf qui è una cosa che ammetto che in gioventù ho fatto anch'io questa cosa qui attorno ai grossi Tarmogoyf dico con 2-3 picchio ok andiamo ai danni ok prendi 5 perché io posso mentirti sulle statistiche del Tarmogoyf perché sono le cosiddette informazioni derivate ovvero le informazioni a cui tutti i due giocatori hanno accesso e proprio sfruttare un'informazione tendenzialmente derivata ha proprio vantaggio però per esempio se io ti chiedo carta in mano tu non puoi dirmi 3 no chiaro aspetta no fermi quindi le informazioni derivate tipo hai delirio no in realtà c'ho delirio puoi farlo come quello che alforziso mi rispose perché non lo vedi il cimitero perché non lo vedi il cimitero va bene no però non volevo prendere le tue carte in mano me lo vuoi dire tu sì esatto ci può stare stiamo giocando eh lo so però pigliarsi pigliarsi con la mistica di Spiuzzo è rimasto male si gode un po' madre mia ma a parte quello comunque l'angle shooting è una cosa legale dal punto di vista delle regole sì però siete comunque delle persone un po' piccole cosa è un po' schifo dico io che vabbè ero piccolino quando l'ho fatto però comunque è una roba disgustosa brutta da fare sì non è non è mai diciamo che rovina un po' l'environment rovina proprio il momento perché in realtà dopo un po' che ti abitui a giocare questo tipo di tornei vai anche con entusiasmo perché alla fine vai un po' con un sogno beh sì ci provi è stato bello andare una volta all'Arsi per me almeno io non c'ero mai andato prima sempre sì sono andato in Europa ho fatto dei tornei grossi per carità però l'Arsi non era mai andato poi era a Napoli quindi casa sua sì no non è proprio casa mia però comunque in Italia sì io ho origini meridionali quindi comunque conosco tante persone nella zona per fare una sintesi sì è un evento che di base è frustrante perché è un evento molto tirato che va molto per le lunghe essere non operating lì fa male davvero madre mia ti ammazza psicologicamente se sei filanista e perdi e lo so molto bene sei il primo dei perdenti sei il primo dei perdenti e ti fa davvero male quindi il consiglio è il mental mantenete un mental positivo anche perché se vedete tutti i giocatori forti hanno un mental positivo sì io ho ancora l'immagine nel cervello di Pivo che al protoro di Barcellona perde la tua potta e sorride mantenete il mental alto siate positivi mai rosiconi cercate di rosicare il meno possibile perché non serve niente al gioco sembrate soltanto più sfigati sei meno lucido anche ti fa perdere lucidità meno lucido ti fa perdere le partite che in realtà potresti tranquillamente vincere poi sai l'ansia spiralizza di solito hai quella cosa lì che continua a peggiorare poi più ci provi più non ti riesce fa una specie di escalation è sempre peggio finché non scoppi banalmente è una piccolissima esperienza proprio legata al Dungeon Street legata all'RCQ perché io sono partito male ho fatto 0-1 e quando fai 0-1 a questi 24 inizialmente inizi a beccarti i matchup strani infatti ho beccato tre matchup strani di fila sono riuscito a fare 2-2 e gli ho detto vabbè tentiamo il 5-2 andiamo a premi e ok becco Frogtide con Storm peggiore dei matchup stavo pure male perché avevo la cervicale stavo morendo e ho detto vabbè questa la gioco perché devo giocarla poi basta e invece lì poi ho detto no vabbè però manteniamo il mente all'alto proviamo siamo un po' positivi ho scombatto turno 2 e quello dipende da quanti spese ne ha e da quante forze ha in realtà G2 l'ho vinto perché ha sbagliato a farmi una Force of Negation a non farmi una Force of Negation a non farla perché ho fatto rito ha detto se non mi fa Force of Negation ho vinto perché faccio RAL e inizio a scombare mi fa risolve io RAL e faccio Friends Resolve Force of Negation ok e risposta perché in tanti credono che devono aspettare fino a Past in Flames invece no invece no alla prima devi fare il tempo play eh sì assolutamente sì sempre counterare la prima spell che tira Storm e questo lo dico assolutamente contro il mio interesse infatti da lì ho detto cavolo ho vinto questa partita che non volevo giocare fino a 25 minuti fa adesso andiamo dritti andiamo dritti il più difficile l'hai vinto sì infatti era l'unico l'unico Force of Negation era letteralmente più difficile bene siamo arrivati verso la fine del video siamo un po' lunghetti rispetto al solito però questo è un argomento molto interessante alla fine qua c'è un po' di infotainment ecco non è proprio una cosa è un po' più vecchio stile però questa è una cosa che ci hanno chiesto in tanti come si arriva al Pro Tour come ci si qualifica come funziona la stagione torneistica che comunque diciamo che non ci sono mai due stagioni ecco forse questo non l'abbiamo detto due stagioni con lo stesso formato vicino non credo sia mai successo di solito dovrebbe esserci una rotazione l'anno prossimo sarà un po' una cosa strana perché ci saranno due volte standard però questo è quanto quindi ragazzi raccontateci la vostra esperienza all'RCQ come è andata come non è andata come vi trovate se avete dei posti particolari da segnalare come buon esempio di environment per il gioco quindi a voi la parola devo dire che in realtà la risposta a questo tipo nuovo di LabCast è molto forte molto forte tante persone vogliono raccontarci le loro esperienze è proprio bello 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 un po' professionale ci mettiamo un sacco a rispondervi anche le persone che magari fanno richiesta per gli abbonamenti perché siamo un po' saturi ultimamente stiamo innaziando a scalare un po' di cose quindi non preoccupatevi se non vi arriva niente in due o tre giorni arriviamo ecco ci ricordiamo di voi non vi abbiamo dimenticato stiamo lavorando per voi stiamo lavorando per voi il nostro team social che poi sarei io più o meno e il nostro team di rane social è pronto tra l'altro vabbè questo poi te lo racconto io rispondo più su youtube di solito io invece rispondo ai meme sulle rane che mi hanno mandato mandano un sacco di meme sulle rane questo è molto vero questo è molto vero sì oppure dei flammini random a volte per me ma di solito lo specifico per Mirico per spentere i bicchieri e in base a quello guarda che c'è il post bene bene ragazzi siamo arrivati alla fine quindi mi raccomando fate quello che dovete fare tanto la discussione qui è sempre aperta per i vostri pipponi quindi un saluto da Mirico e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao